Stefano Bonaccini o Eli Schlein? Chi vincerà? Chi diventerà il nuovo segretario del PD? Beh, io sapete tifo per Eli Schlein, non sono del PD, non ho simpatie per il PD, è un partito che detesto, però spero vinca Eli Schlein. E dalla mia parte c'è Oliviero Toscani, il noto fotografo che ieri ha definito Stefano Bonaccini, una persona noiosa, il partito con lui si estinguerebbe ed è anche un po' tamarro, visto anche un po' questo look che abbiamo sempre criticato. Oliviero Toscani, sei il numero uno.